Applausi Siamo tutti qui, tutti riuniti oggi per chiedere veramente la giustizia per mio figlio. C'è la merita e tutti i ragazzi qua intorno hanno organizzato insieme a noi questo corteo che sarà un corteo silenzioso nel rispetto di tutti, soprattutto per le autorità che ci hanno appoggiato in questo evento. E' stata oggi depositata finalmente l'autopsia di mio figlio e speriamo che presto ci sia l'inizio del processo. Può essere questa la svolta? Io penso di sì, io voglio sperare che la giustizia faccia il suo corso e che il giudice impugni l'istanza di scarcerazione dei domiciliari, che torni in carcere fino all'inizio del processo, perché è giusto così. Grazie Grazie